Bene ragazzi, qui è il Cina e oggi siamo qui nel terzo episodio Oggi ragazzi, oltre che al Papi dovrà fare un gol Vediamo se riesco a fare un gol Dovrà fare forse anche un gol di testa Vediamo, vediamo se lo faccio di testa o di tacco Io metterò Mandzukic e ti crosserò E tu Papi, quando ce l'hai sulla testa, devi schiacciare quadrato e indirizzarla verso la porta, capito? Sì, sicuramente la indirizzerò verso la porta Comunque prima di incominciare ragazzi, passate da onefiva.com sotto in descrizione per acquistare i vostri crediti Noi siamo in Cina in questo momento Però sto facendo appunto questi video, li sto facendo un botto in tutte queste giorni Che precedono la nostra partenza E schiacciamo subito E oggi stiamo contro il 1899 Una squadra famosissima tedesca Sei pronto? Sono pronto Sono pronto a trasformarmi in Mandzukic Papi Non riesco, non riesco Vai, vai, corri Corri che c'hai il cambio spianato Corri, perché li vai contro? Ok, ok, tira, 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 tira Perché non tiri bene, perché non tiri bene? Schiaccia, schiaccia quadrato Quadrato Oh, sto guardando dentro Guarda, che gol Con il testa Di testa Gol di testa Gol di testa Guarda che gol di testa che ho fatto Eccezionale, guarda Vediamo No, non ho di testa Come no? Famelo vedere di là Ecco qua No, è di petto, di petto E di petto testa No, devi rifarmi Di petto testa Vabbè, hai fatto un gol Che merda di gol Manco tirare Ok, accentrati Vai, guarda Sei quello blu Sei quello blu Ok, vai, accentrati Papi, con l'arm non fai un cazzo Quadrato, quadrato Oh, che cavolo Hai schiacciato a caso No, stavo cercando di fare una super rovesciata volante No, però devi schiacciare quadrato quando ti arriva la palla sulla testa Hai schiacciato quadrato Ho schiacciato tutto Ok, te la ripasso, eh Schiaccia, schiaccia quadrato No, non troppo Non devi schiacciare Anche qui è colta il fatto che se schiacci troppo Vediamo La tiri troppo Se schiacci troppo La tiri troppo su Devi schiacciare il giusto E colpirla con l'analogico Verso la porta con l'analogico Ok, adesso Papi Vado di là, eh Ok, sei pronto? Ok Goal Testa Eeeh Come erano obiettivi Obiettivi, due Hai giunto il gol Goal Testa Ho fatto un po' di testa Incommila chi è? Chi è? Chi è? MADSUCHICHI 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 MA-ZUCHICHI Che? È MADSUCHICHI? Sì È di testa Mamma mia Mario MADSUCHICHI Guarda il panni Guarda Guarda La faccia Stupita Guarda Mario MADSUCHICHI Guarda 2 a 0 Dai, prendetele Dai Adesso dobbiamo solo fare gol Ok Ok Corri, corri, corri Schiaccia Quadrato 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 GOOOOOOOL Minchia Se schiacci Quadrato Cazzo Aspettate ancora un po' Coloni Te la prendeva Cazzo Ma no Ormai sono stato un campione Ma cazzo Che passaggio ti ho fatto Di filtrante Cazzo Guarda 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 Il filtrantino Bravissimo Corri, 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 corri Quadrato Quadrato MADSUCHI Finalmente ha capito che Inesordiente I giocatori non si muovono Finalmente ha capito E appunto Vedi che va dritto Finalmente Cazzo Le altre volte Tirava le cagate Cazzo 4 a 0 Ragazzi Stai iniziando a capire Tira di longshot Un tiro più potente No Un tiro più potente Non due volte Una volta però così Hai capito? Una volta però Schiacciando un po' di più Sei pronto per il prossimo live Che devi fare i longshot? Sì Sono pronto Ti faccio vedere un po' Di tipi di longshot Papi Ok Ti preparo No Però non prendiamo Buona parte Papi Perché Dov'era? Dov'era Perché tu Tu clicchi triangolo Senza saperlo Lo tieni premuto E quindi Il portiere esce fuori Infatti Lo fai sempre uscire te Papi Non devi schiacciare triangolo Ti ho detto Di non toccare Questo triangolo Papi Sei tu Oh che cavolo Pirla Sei una pirla Tu stile Hai scelto La sei batta Ti dato di vera No papi 4 a 2 79 No Ma dai Non se ne raggiungeranno mai Guarda Cazzo Mi sono dimenticato Di farlo ripartire E adesso Eh devo ricordarvi Perché io ero abituato Ad avere Quella cosa automatica Che dopo 12 minuti Me lo faceva automaticamente E adesso cosa succede? Niente Adesso praticamente Ogni volta Noi dobbiamo schiacciare il tastino Quindi se ci dimentichiamo È fottuto Eh vabbè Ora ragazzi Per un pezzo di video Si vedrà una merdata Per un pezzo di video Si sarà una schifezza Cioè si sentirà di merda Perché è l'audio della webcam Per fortuna però Che ho registrato Con l'audio della webcam Altrimenti Non si sentiva neanche Poi qui è una camera a gas Ragazzi Dovemo chiudere Perché sennò Quelli di sopra Ci cacciano via Quindi Siamo qua Ormai è mezzanotte E Stia Questo qui è stato deficiente Ride con un pirla Secco Ormai non ce la fa più Ragazzi Questo qua È l'involgione No perché sto vedendo Com'è sudato lui Aspetta Aspetta che metto a fuoco Perché qui Io sono sudato come Una Cioè Guardate com'è sudato ragazzi Guardate Sono peggio di Cioè guardate qui Aspetta si vede Sono peggio di gota Al maracanaca Perché questo al maracanale L'ha sudato Certo che l'ha sudato Non l'hai visto Quando ha fatto il goto Si è sudato addosso Vabbè ragazzi Anche questo video è terminato Spero la prossima volta Dobbiamo ricordarci Quindi pronti per il quarto episodio Dove il papi dovrà fare Non lo so se Shortbox Longshot Mi raccomando Quindi lasciate un like lo stesso Dal vostro Cina e dal papi è tutto Un saluto E al prossimo video Passate dal sito OneFiva.com Ok Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuuh